Ci troviamo a Montecchio più precisamente davanti all'attività commerciale Hashtag Stefano dove abbiamo parlato con il suo titolare a causa di un motivo. Dopo il nuovo DPCM varato dal governo l'attività qua alle mie spalle è obbligata insieme a tutte le altre a rimanere chiusa nelle weekend e quindi nei giorni di sabato e domenica. Questo perché vengono ritenute a causa di quando sono state costruite delle attività di centro commerciale nonostante ogni singola attività presenta un proprio ingresso separato e quindi le persone possono entrare anche in maniera contingentata. Il tutto nel malcontento dei titolari e delle attività commerciali nella speranza si sta muovendo anche dal punto di vista della regione che questo possa essere evitato nei prossimi weekend. Per quanto riguarda l'emergenza e la gestione dell'emergenza rientra nella routine sociale italiana quindi i problemi sono quelli un po' di tutti e di tutte le attività commerciali diversamente distinte per tipologia merceologica eccetera eccetera. Quindi i problemi normali di tutti. Come mi trovo qui? Un'ottima zona, Montecchio offre tanto a livello economico, ha un tessuto sociale molto diciamo fra virgolette ricco perché troviamo un sacco di imprese, un sacco di attività di ricche diciamo e quindi che portano, veicolano verso Montecchio dalle zone limitrofe delle necessità quindi commerciali e noi le offriamo insomma. Allora quello che io chiedo è un'uguaglianza, un'uguaglianza di tutte quelle che sono i centri commerciali della zona, parliamo della zona di Valle Foglia ma il problema è a livello nazionale. Quindi secondo me ci dovrebbe essere più uguaglianza, non può essere una distinzione che a quanto pare noi siamo venuti a sapere venerdì sera essere solo per alcuni centri distinti non si è capito perché nessuno ci ha poi spiegato tecnicamente per bene in che modo sono stati distinti perché a dire di tutti, anche dei nostri clienti eccetera eccetera, della gente di Montecchio e di Valle Foglia in genere sono dei centri commerciali con caratteristiche identiche, anzi tra l'altro si possono fare delle distinzioni che noi abbiamo meno condominio di altri centri commerciali senza stare a puntare il dito. Quindi venerdì sera siamo caduti nell'interrogativo aperti e chiusi, abbiamo chiesto alle attività economiche e ci hanno detto chiusi e noi abbiamo chiuso. Risultato, abbiamo ragazzi in cassa integrazione per tutte le attività della zona e di tutti i centri commerciali, dei punti interrogativi perché non si può andare avanti, non si può gestire un'azienda in questo modo di settimana in settimana, di giorno in giorno, non si vive alla giornata, non siamo dei disperati che vanno in giro a raccattare. Noi siamo degli imprenditori e vogliamo fare impresa, quindi vogliamo fare degli investimenti, assumiamo del personale. Io ho assunto quattro persone in più solo nell'ultimo periodo per superare il periodo natalizio, in questo modo non si riesce a gestire. Dall'oggi ai dolmani serve una programmazione almeno nel tempo, non si può vivere e continuare a vivere in questo modo. Io sono veramente un po' perplesso, non ho più voglia. Poi lo hai citato tu, il periodo natalizio, mancano poco più di una quarantina di giorni natale, questo che sarà un Natale molto particolare, forse come mai prima abbiamo vissuto, un periodo dove comunque tanta gente si riversava nel tuo negozio per acquistare delle cose. Stiamo cercando di dare gioia a questo Natale ma con tanta fatica, un sorriso proprio tirato, molto tirato, non mi piace, è brutto tutto, è già difficile. E poi questa cosa qui della divisione anomala e parziale delle attività, io ho girato, erano tutti aperti, un centro commerciale come l'IKEA, cosa mi c'entra? È aperto e noi chiusi? Cioè noi abbiamo 83 persone che possono entrare in questo negozio, è contingentato, ci sono i plexiglass, ci sono i disinfettanti, è tutto a norma. Perché noi no e loro sì? Noi non siamo un centro commerciale, vedete, i miei clienti entrano dentro al mio negozio, non entrano in una galleria o dove ci sono altre attività o passano in luoghi stretti, comuni ad altre attività. Noi siamo noi, questo è un condominio dove l'unica cosa che abbiamo in comune è la pulizia dei parcheggi, basta, non c'è altro. Grazie.